E ho seguito anche un po' tutte le ironie che ci sono anche sul web per quanto riguarda l'autocertificazione e comprendo anche che purtroppo questi moduli sono stati modificati nel corso del tempo, però al di là di tutto è chiaro che nel momento in cui il regime degli spostamenti rimane limitato è difficile che si possa abbandonare il criterio dell'autocertificazione perché è uno strumento di rapida, perché poi basta un semplice foglio per compilare e dichiarare, autodichiarare la destinazione e la ragione dello spostamento. Fino a quando ci saranno delle ragioni che devono giustificare lo spostamento automaticamente si conserverà il regime dell'autocertificazione. Questo però lo dico perché è indicativo del fatto che con questo nuovo provvedimento noi non avremo un libera a tutti. Non possiamo permetterci nel momento in cui alcuni migliori di lavoratori andranno a lavorare, nel momento in cui allentiamo alcune misure, non possiamo permetterci di dire si esce liberamente. Comprendiamo che questo regime restrittivo è molto pesante, ci rendiamo conto che a questo punto l'attività motoria, ad esempio quella sportiva non può essere più prescritta nelle immediate vicinanze della propria abitazione, però ci deve essere sempre un motivo per spostarsi.